La liturgia del Venerdì Santo infonde un senso di mestizia, ma anche di forte speranza. La passione di Cristo non si può negare, crea in noi un senso di ancoscia e dipendimento anche dei nostri peccati. Quindi è morte e risurrezione. Gesù, salvatore e crocifisso. Il rito romano, il Venerdì Santo, non si celebra nessuna messa. Oggi il nostro sguardo deve essere polarizzato unicamente su Gesù crocifisso. La liturgia eucaristica si svolge in tre momenti. Il primo momento è la liturgia della parola. E quando mai impressionante ed efficace, i sacerdoti leviti si presentano all'altare vestiti di paramenti rossi. Il tabernacolo è aperto e vuoto. Sull'altare nessun ornamento, non ci sono vassi di fiori e nessuna luce, nessuna cantela. I sacri ministri vengono all'altare e si prostrano per terra, in segno di penitenza e di adorazione alla croce. Poi vi è la preghiera universale. È Venerdì Santo, è il giorno della passione morte di Gesù. È Gesù che apre le porte del paradiso e la Chiesa di conseguenza prega per tutti, per tutti gli uomini della terra, di tutti i tempi, santi e peccatori. Poi vi è l'ostensione e l'adorazione della croce. È un momento toccante vedere questa fila dei fedeli che piano piano, piano piano, si avvicinano alla croce e baciano i piedi di Gesù crucifisso. Quante lacrime, quanti sospiri, come ci si batte il petto perché si diventa consapevoli che in certo qual senso ciascuno di noi ha gettato la pietra contro il nostro Salvatore Gesù di Nazareth e l'abbiamo contannato alla morte. Ecco il legno della croce in cui fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo. Ogni volta noi ci incinocchiamo e cantiamo, venite, adoriamo. Poi ci portiamo davanti alla croce e premessa una genuflessione, baciamo le sacre piave. Valgono anche per noi l'improvere di Gesù verso il suo popolo in crato. E poi gli improperi che strappano il cuore. Perché ti ho guidato quarant'anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in paese fecondo, tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Io ti ho dissetato con fiele e aceto, io ti ho posto in mano uno scettro regale e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. Io ti ho esaltato con grande potenza e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. E la funzione si chiude in tono sommerso e mesto con la santa comunione. Mai come oggi sentiamo di ricevere in noi una vera vittima divina. Partecipiamo con tutta l'anima alla commovente celebrazione liturgica odierna. Ricordiamo ancora una volta la mare via Crucis che per nostro amore Gesù ha percorso nel primo venerdì santo dal Gettisemani a Calvario. Il bacio alla piaghe del Salvatore sia espressione sincera del nostro pentimento e del nostro riconoscente amore. Con spirito di pentimento e di riconoscenza compiamo anche i particolari esercizi penitenziali di questo giorno. Grazie, oh Gesù, perché ti sei immolato, offerto per noi tutti. Grazie, oh Signore, grazie, oh Signore.